Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Nel corso di questo mercoledì 30 marzo assisteremo ad un importante peggioramento del tempo su gran parte d'Italia, soprattutto al nord e sul versante tirrenico Le aree più colpite dalla siccità nel corso dell'inverno e in questo primo scorcio di primavera Pertanto col ritorno delle correnti da ovest assisteremo alla pioggia, a roesci e temporali sul medio alto tirreno in Toscana e in Iguria In estensione a tutto il nord, nevicate sull'arco alpino, qualche fenomeno in arrivo anche in Abruzzo Quindi tempo destinato a peggiorare, seppur in modo più marcato e significativo negli aree più interne, ovvero in Apennino Dove ci aspettiamo piogge per gran parte della giornata Le temperature che tenderanno a salire, soprattutto in alta quota, a causa dei venti di Scirocco Avremo nevicate oltre i 2.000-2.100 metri di altezza Tempo leggermente più asciutto lungo le coste, avremo tanti nubi, qualche momentaneo sprazzo di sole Però fenomeni abbastanza irregolari, poco presenti Temperature in calo, massime non oltre i 12-13 gradi Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento